8 venti e infiniti canti, concerto della piccola orchestra Marmè di Terra e dell'ansamblo vocale Al Canto. Questa sera in piazza Pertini a Buonabitacolo. L'evento rientra nel POC, la Valle delle Orchidee. Lo presenta il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio. Questa sera abbiamo un primo grande evento, un concerto diretto dal maestro Vincenzo De Filippo che tra l'altro è originario di Buonabitacolo e che però già da un po' di anni si è trasferito a Roma per studiare al Santa Cecilia, al Conservatorio e poi per mettere su la sua ensemble. Il concerto di stasera che si intitola 8 venti e infiniti canti è un percorso molto suggestivo in quelli che sono i suoni del Mediterraneo. Il maestro De Filippo ha rielaborato, ha ascoltato e poi rielaborato le sonorità, le tonalità dei suoni e dei canti che rintracciamo all'interno di questo vasto bacino che è il Mediterraneo e che però è anche incontro di tanti popoli, di tante culture. Ha poi composto un percorso, un itinerario prima concettuale e poi musicale davvero molto suggestivo perché ha cercato le contaminazioni, cioè i punti di contatto tra i vari suoni, le varie sonorità che si ascoltano intorno a questo bacino. Un punto di incontro, un ponte, la musica come un ponte che è mischiata da questi 8 venti che attraversano il Mediterraneo. Quindi il concerto di stasera tra l'altro capita anche in un momento importante per Buon Abitacolo perché oggi è la festività patronale e si festeggia il Santo Patrono, Sant'Elia Profeta e quindi abbiamo voluto far coincidere questi elementi così importanti per noi, per la comunità di Buon Abitacolo con un evento musicale di grande qualità.